e adesso è la volta di Juve Palermo eccolo Zarbo, ovvio Zarbo viene servito Zarbo in profondità sulla stilista vediamo se ci cerca la conclusione ho il passaggio in mezzo per Bollino Zarbo, Zarbo, Zarbo in mezzo il pallone non arriva a Bollino seguiamo la sfogliata di Antonio Grippi Grippi sul fondo e c'è la parata di Libertazzi Zarbo, vediamo se ci arriva a Bollino bravo Zarbo, serve invece Grippi Grippi in anticipo il pallone di Grippi e c'è il gol del Palermo all'ottavo minuto 7.30 contro piede del Palermo e poi ha colpito Antonio Grippi che esulta in maniera anche eccessiva attenzione Bollino poi il gioco di Bollino attacco con Osella Osella, 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 Osella Osella e c'è quasi autogol Osella, viene salvato stava commettendo una stupidaggine Davide Monteleone al minuto 21 il pallone è in area in zona Padulano Padulano stoppa ma poi colpisce un'automobile nel parcheggio non c'è Zarbo che in mezzo là c'è invece Daniele Compagno dalle parti del compagno il pallone è una telefonata anzi una email a Giovanni Libertazzi vediamo se la squadra Sincola riesce subito a portarsi in zona Libertazzi il portiere della Juventus il tiro è basso ma attenzione c'è il tocco sotto di Bollino che fallisce di 1-0 il gol del 2-0 Zarbo, Zarbo, Zarbo inesca Bollino Bollino, Bollino c'è il gol del Palermo il gol è di Bollino ma anche qui la mano il piede il magico fatato di Zarbo Bollino segna il 2-0 così come Grip ha segnato l'1-0 ma in entrambe le occasioni davvero la classe cristallina di questo straordinario talento che si chiama Gabriele Zarbo che aveva segnato anche il gol Casparrello punteggio collettual davvero è stato determinante adesso ancora il Palermo a sorpresa il pallone rimesso in mezzo ma interviene interviene Stange il pallone in mezzo perde il Papa bisogna il Papa il pallone in zona Quotu Quatema la Juventus non riesce a produrre il gol adesso c'è la conclusione del numero 14 Nicola Portos quanti metri si è fatto vi scuso per andare a aiutare i compagni in fase offensiva Sanseverino attenzione con azione del Palermo sul settore sinistro penetrazione in aria il pallone termina in calcio d'angolo finisce il match Palermo 2 Juventus 0